Ciao da Giardinaggio Irregolari, allora vi è piaciuto il video sulle frasi trigger? Adesso ve ne dico una per quello che riguarda gli illustratori, le illustratrici o comunque le persone che disegnano. E imbrogliare se copi il disegno con un'applicazione, con la fotocopia, il vetro, con la lavagnetta luminosa, con qualsiasi cosa. Qualche giorno fa mi capitava nel feed di, adesso non me lo ricordo davvero quale social, la pubblicità di un'applicazione. Ce ne sono tantissime di queste che consentono una sorta di video in trasparenza, quindi ti filmano mentre lavori e nello schermo, nel display, vedi quello che stai facendo. Ovviamente è molto grossolana come finezza, non è in grado di darti delle linee precise, anche perché se sposti il telefono, ingrandisci, muovi qualcosa, è un disastro. Io l'ho provato una volta sola e l'ho disinstallata. Tra l'altro sono anche applicazioni che costicchiano di sistemi per copiare, per riportare un'immagine da un foglio a un altro. Magari ingrandendo, soprattutto ingrandendo, l'ingrandimento è estremamente importante per chi disegna. L'aggiustamento sulla superficie su cui devi lavorare è veramente importantissimo. Mi sono perduta, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Ebbè, comunque, insomma, è una cosa che ci dà lo sturbo. Ai tempi si faceva il cartone, lo facevano i ragazzi che lavoravano in bottega, facevano il cartone con i sistemi di ingrandimento, facendosi, quadrettando l'originale, quadrettando poi il cartone, facendo dei quadretti più grandi, in modo che quello che c'era in quel quadretto te lo riportavi nell'altro quadretto, era faticosissimo. Poi, per riportarlo spesso sui muri, sui soffitti, Michelangelo faceva fatto sempre, ma non lui personalmente, erano i lavori appunto dove si facevano gli assistenti, quello che oggi si direbbe l'assistente al disegno. Era la sinopia, erano i buchini lungo tutte le linee, e poi si passava il sacchettino con il carbone e quindi si aveva più o meno un'idea di massima di dove mettere le linee. Ora, questo fatto di doversi riportare i disegni da una parte all'altra è complesso. Gli artisti hanno sempre tentato di intanto accorciare i tempi, perché è veramente faticoso, e di aumentare il livello di precisione. Canaletto, ma anche, credo, altri vermer, si fecero fare la camera oscura, in modo da proiettarsi proprio delle immagini tridimensionali sulla tela. Anche a questo è dovuta la loro enorme capacità di dettaglio, la loro finezza di dettaglio. Quindi sotto questi commenti sulla pubblicità dell'app leggevo Ah, imbroglio, cheating, cheating, imbroglio, imbroglio. Io, ma niente, in realtà non è che c'è molto da dire o da pensare. Questi sono i commenti di chi non ha assolutamente idea di che cosa sia il disegno, e anche del fatto che ricopiare il disegno non è riportare il disegno, non è disegnare. In realtà, quello è uno dei tanti passaggi, ed è un passaggio anche spesso noioso, che si vorrebbe fare in fretta, perché poi, diciamo, che arriva la parte un po' più interessante. Senza contare che ci sono delle superfici su cui è veramente faticosissimo riportare il disegno, come appunto la stoffa, io in questo periodo sto facendo delle magliette, o la tela. Spesso i professionisti che ha un po' più di soldini si aiutano con dei proiettori buoni, spesso posizionati, che proiettano in orizzontale, altrimenti proiettano in verticale sul muro, però bisogna stare lì e anche prendersi una bella botta di cervicale, e stare attenti, non oscurare la linea di proiezione del fascio d'illuminazione. Insomma, è veramente una cosa proprio faticosa. Io ho sempre sentito dire questa cosa qui, questa dell'imbroglio, della fotocopia. Lo ricordo, ecco, da un signore, diciamo, che potrei prendere a modello del tipo di persona totalmente priva di capacità artistica. quelle persone che davanti al bel lavoro non sono in grado di riconoscere. Ecco, allora, molte persone non sono in grado di distinguere un brutto lavoro da un bel lavoro. Cioè, vedono un brutto lavoro e pensano ma guarda, è carino, ecco, magari il quadretto stampato con due botte di colore, un po'. Ecco, il quadro simulato, il quadro fake, che si trova spesso al mercatino a 100 euro, 50 euro, con la cornice. In realtà stai acquistando una cornice. E lo considerano un buon lavoro. Quindi può succedere. Ma le persone che vedono un buon lavoro e non lo riconoscono, non lo capiscono, sono poche. Anche le persone che non hanno pratica con il disegno, in genere, sono in grado di distinguere, di riconoscere a naso, a intuito, una cosa bella, una cosa fatta bene, una bella stata, un bel dipinto. Cioè, io mi ricordo questo signore che era veramente, tra l'altro, non particolarmente vecchio, un ex-gen come me, che veramente era... Non lo so, sembrava un monoblocco mentale da questo punto di vista. Era totalmente incapace di riconoscere un buon lavoro. Per questo tipo di persone, magari, ricopiare con un ausilio e imbrogliare. Allora, ecco, mi viene da dire che per scrivere, per stampare un foglio, ecco, dovremmo scriverlo a mano, perché sarebbe imbrogliare, scriverlo a mano. O addirittura, no, aspettate, torniamo al blocchetto di pietra, a martelletto, perché bisogna fare l'incisione sulla lapida, la penna d'oca, insomma, tutte queste cose qui non hanno davvero nessun senso, nessunissima ragione. C'è una componente tecnica nel disegno, proprio anche tecnologica, nel disegno, che è imprescindibile, fa parte delle nostre... delle arti e delle attività dell'essere umano. Quindi, boh, niente, è così, era un pur parler che ho voluto girare anche a voi, questa cosa che mi sorprende, ma mi sorprende anche il mio amareggio, perché vuol dire che veramente il disegno e l'arte, la praxis artistica è davvero misconosciuta, poco poco nota. e invece credo che tutti noi dovremmo studiare un pochettino di fare qualcosina, non è che poi dobbiamo diventare tutti bravi, però dovremmo studiare un po' più di arte, proprio da piccolini, alle elementari, alle medie, il disegno, la musica, altre discipline artistiche. Io, per esempio, sono negatissima per la musica, ma lo spirito umano ha bisogno di comprendere come funzionano certe procedure, proprio appunto praxis si dice in greco, per capire che quello che stanno facendo gli altri per attribuire un valore a quello che stanno facendo gli altri. Ciao!